Benvenute! Allora, oggi sfogliamo all'album numero 17 del libro Shea, l'ultimo catalogo dell'anno, quindi tantissimi auguri e questo credete è un album davvero pieno di offerte, sconti dal 40 al 50%, quindi davvero tantissime promozioni e direi di iniziare subito ad sfogliarlo. Eccoci qui, allora questo è l'album numero 17 che è valido fino al 14 gennaio del 2016, è l'album più bello dell'anno, oltre che essere l'ultimo, perché ha tutti i prodotti, tantissimi prodotti, scontati fino al 40%. Direi di partire subito a mostrarvelo, eccolo qui, e intanto abbiamo le matite occhi, quelle waterproof, scontate del 40%, quindi a 5,95. Poi, ecco, anche gli altri prodotti, l'eyeliner e l'eyeliner in gel, ovviamente anche gli ombretti oppure i mascara, anche questi mascara ovviamente sono scontati, e anche i fondotinta, eccoli, tutti quanti sono scontati, quindi davvero ottimi prezzi. Andiamo avanti, abbiamo lo sconto anche qua sulle terre e sulle matite labbra, che davvero sono fantastiche, 5,95, e anche sulla matita stidolabbra, questa a zero difetti, che è quella trasparente. Anche sui rossetti e sui rossetti. Adiamo in offerta, eccolo qui, anche la Rich Creme, quindi la crema giorno e la crema notte, e anche il balsamo restrutturante di Zecollo, questo è in super offerta. Ovviamente anche la linea al vero difetti, che è quindi WOW, e la linea anti-heis globale, guardate, a 19,95, la crema fondamentale. Un'altra grossa offerta è perché abbiamo il set di due maschere anti-età, a solo 9,95, quindi sono davvero molto scontate. E anche ovviamente il set per la cura del viso. Altri prodotti scontati è quella qui, la linea Ibra Vegetal, sconti fino al 40%, soprattutto sulla crema ricca di adattazione intensa, sulla linea Stebo Vegetal, eccole qui, e sulla linea E-Pool System. Sconti fino al 40% anche sui trattamenti per i piedi, quindi davvero è il momento di iniziare a curare i piedi, ed eccolo qui, gli sconti anche sui prodotti della linea Expert Reparation, quindi Reparation, come l'ho detto, quello è il nutrimento intenso, ed è sulla Talison di Amman. Fino al 40% anche gli sconti, per la linea E-Mensure Active, quella snellente. E poi abbiamo la promozione sui doloranti, perché acquistandone uno, l'altro lo si acquista a solo 1 euro, quindi il primo col codice normale, e il secondo col codice rosso, e lo si ha a solo 1 euro. Quindi una grande offerta. Stesso discorso anche per i gel doccia, quindi il primo a prezzo pieno, e il secondo a 1 euro. Il primo ovviamente col codice normale, e il secondo col codice rosso. Ovviamente tra i gel doccia Quasibio, i gel doccia Jardin du Monde, ecco di qua tutti quanti, e poi ovviamente abbiamo le super promozioni. La linea Serum Vegetal, eccola qui, abbiamo le super offerte, eccola sconti fino anche al 50%, quindi davvero il momento di fare scorta di questi prodotti, che io poi adoro. E anche la linea E-Ovale Lipting, eccola qui scontati, davvero scontati fino al 50%. Allora, la linea Elixir 79, che vedete anche voi i prezzi. Altri prodotti scontati fino al 50% sono, ed è questi trucchi che sono andati in fila produzione, quindi il correttore, la cifria, il rossetto brillante, e poi i mascara colorati, il primo a prezzo pieno, e il secondo a 1 euro come sempre. E abbiamo visto tutto il catalogo. Allora, abbiamo scaricato tutto l'album, abbiamo guardato, vi ricordo che qui sotto c'è il link per contattarmi, per le informazioni, per gli odi, tranquillamente, ed c'è anche il link per scaricare il formato PDF e il catalogo, così lo potete tranquillamente guardare sul vostro computer. Io vi ricordo che l'album numero 17, valido fino al 14 gennaio del 2016, e non mi resta che augurarvi buoni acquisti, altrimenti profumati, ed buone feste, con il magico attuale mondo di Vrochier. Grazie per la visione!